Apriamo oggi terza pagina parlando dell'elogio del negativo, un saggio su una deriva anche linguistica dei nostri tempi di pandemia. Chi ha detto che positivo è sempre sinonimo di ottimismo è felice approdo del pensiero dominante, della prassi quotidiana, dell'esperienza di vita. E se non fosse così? Da questo ribaltamento di prospettiva è nato elogio del negativo da poco approdato in libreria, edito da Rubettino. Andremo incontro a una serie di problemi che deriveranno dalla nostra capacità di saper leggere e interpretare le opportunità che la ripresa economica ci presenterà. L'epidemia ha imposto una nuova categoria dell'essere, il negativo, che è diventato sinonimo di non malato, dunque in colume rispetto all'aggressione del male. Un rovesciamento linguistico e logico che ha cambiato il paradigma della comunicazione, ma che ha anche profondamente modificato le prospettive in campo politico, economico, sociale e culturale. Anche la libertà di parola ne ha risentito, persino nelle università. Anche da noi, sin troppo spesso, anche in questi tempi, anche durante la pandemia abbiamo assistito a docenti universitari sanzionati per problemi collegati ad opinioni espresse, anche in un contesto fuori dal mondo dell'università. Noi siamo convinti che il dibattito più ce n'è e meglio è, che la libertà di espressione, il free speech, sia uno dei valori fondanti del mondo occidentale, dell'Italia in particolare, e che va difeso ad ogni costo. Come il paradosso della cancel culture, la cultura che cancella, che sbagliando tutto nel mondo anglosassone, cerca di cancellare il cammino fatto dalla storia per cancellare le opinioni diverse. Nei tempi moderni una delle preoccupazioni maggiori si lega proprio a questo fenomeno molto diffuso nel mondo anglosassone della cultura che cancella, che è terribile, stiamo buttando pezzi di storia, secoli di storia, in nome del politicamente corretto, che è una di quelle cose terribili a cui ci troviamo a confrontare oggi. Ancora più grave è che un mondo che dovrebbe essere il più refrattario, il più resistente rispetto a queste spinte, che è quello dell'università, invece è fortemente permeato. Il nostro paese, fortemente, dalla cultura classica è un presidio, a differenza del mondo anglosassone dove ha fatto passi in avanti importanti. Il futuro nasce dal confronto, non da nascondere la polvere sotto il tappetino. E per concludere torna in libreria per Camelo Zampa l'orso di Raymond Briggs, un classico dell'illustrazione, un racconto poetico sul filo del discrimine tra realtà e fantasia, la storia di un'amicizia immaginata tra una bimba e il suo orsetto e un orso polare, così ben raffigurata da sembrare vera, o forse addirittura esserlo. Grazie a tutti.